Ciao a tutti, allora chi segue il mio lavoro conosce sicuramente Poliedro, la mia installazione più importante e famosa e saprà che è interamente basata sul concetto dei legami, delle connessioni, in primis fra persone e in questi anni ho avuto molte volte l'occasione durante vernissaggio, durante mostre anche di molti giorni o anche durante installazioni permanenti, di legare anche fisicamente persone in giro per il mondo un tipo di esperienza meravigliosa che in questo momento non sarebbe ovviamente fattibile allora ho avuto l'idea di farlo in digitale, di proporvi di partecipare a un progetto comunicativo attraverso la vostra immagine, attraverso un selfie che potete inviare come messaggistica privata di questa pagina con l'hashtag restiamolegati, restiamolegati proprio nel momento in cui ci è richiesto di stare più lontano l'uno dall'altro forse è il momento in cui dobbiamo stare più vicini concettualmente dobbiamo stare davvero lontani l'uno dall'altro, questo è molto importante e per fortuna ora le persone iniziano a capirlo però questo non significa doversi alienare, non significa dover rinunciare al nostro esseri umani e al nostro condividere le cose ad un livello anche più avanzato di quello fisico per cui l'idea è quella appunto di creare dei collage che verranno pubblicati appunto sulla mia pagina, sui miei profili, sul mio sito web che io stesso andrò a comporre con le foto che vorrete inviare foto semplici, niente di elaborato, così come siete sarà bella l'idea di connettere e unire persone che nemmeno si conoscono attraverso il mio lavoro per chi vorrà parteciparne io sto vivendo giorni in cui abbiamo ricevuto degli annullamenti per mostre e per attività che dovevano essere compiute specialmente all'estero nei prossimi mesi e questo in primis perché ovviamente il mondo adesso guarda all'Italia come a uno stato di di grande rischio in una situazione fortemente difficile e allora mando questo messaggio solo in italiano solo a persone che abitano nel territorio italiano perché in questo momento questo progetto è dedicato e rivolto a loro facciamo vedere in che modo riusciamo a reagire mettendoci la faccia perché ogni giorno mi arrivano notizie dall'estero di come dall'estero ci vedono e allora mi piacerebbe fargli vedere che siamo non solo quello siamo anche qualcosa di più quindi se vi va inviate le foto e sarà bellissimo condividerle